alessandro sta testando questa maschera di decathlon allora guardate come va sotto e non entra l'aria incredibile alessandro entra entra l'acqua un po ragazzi entra un po d'acqua però perchè spiega adesso vedete guarda la devi stringere ecco perché entra l'acqua la stretta dice ma non è vero non è abbastanza stretta non lasciate abbastanza di più è troppo lenta le entra l'acqua entra si vieni qua alessandro stringiamola fuori fuori dalla piscina la devi stringere di più la maschera fuori fuori alessandro entra dall'acqua devi stringere di più è troppo lenta ma devi stringere di più l'ho trovata ma l'hai postato il video di ieri ieri quello della diretta del calcio e quello era in diretta quello di un automatico che già stava su youtube però io non lo trovo tu come no è l'ultimo video dei millecilini lego alessandro esci che sei l'unico che è rimasto in piscina eccolo vediamo dai dettagli qui sopra com'è faccio vedere qui c'è la cosa che blocca qui la cinghia che era un po' lenta andava a setta di più andava a setta di più via alessandro è volete andare a pranzo saluta devi dire ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 15